buonasera buonasera a tutti mi sentite? ok Alessia Martona di posto si perfetto forte e chiaro buonasera buonasera allora ancora non siamo tutti siamo solo 11, 12 ok sì scusate per le prove tecniche però purtroppo di questo periodo è tutto su piattaforma ok oddio poi dal lato è comodo perché ho visto che siete di diverse parti d'Italia insomma vedete un po' tutta Italia allora vediamo un po' 12 adesso direi aspettiamo qualche minutino e poi iniziamo perché le cose a dire sono davvero tante quindi mi raccomando pronti buonasera Silvia buonasera buonasera ok allora ve lo dico già da adesso mi stanno dicendo che si vede un po' male il video vedete sfocato per caso non è sì ok ok vabbè che adesso andrò a condividere lo schermo quindi magari risolveremo il problema ok 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 già che durante la presentazione potrete scrivere domande potete fare quante domande volete l'unica cosa è che poi le andremo ad affrontare verso la fine perché io mentre presento mentre lo schermo condiviso non vedo le domande che fate vedo soltanto la mia presentazione però siate liberi assolutamente di scrivere qualsiasi cosa mi passi per la testa qualsiasi domanda qualsiasi dubbio insomma nella chat insomma dedicata apposta buonasera Marco ok iniziamo iniziamo condivido subito lo schermo ok ok perfetto vedete bene giusto? vedete la presentazione? allora oggi andremo a parlare appunto di export dei prodotti alimentari un argomento molto interessante un argomento molto ampio perché quando si parla di export come sappiamo l'export si suddivide no? in più fasi prima di tutto c'è la parte relativa alla documentazione che è la parte forse più complessa no? quella in cui bisogna appunto vedere tutti i certificati di export certificati sanitari richiesti dalla legislazione nazionale del paese di importazione poi c'è la chiaramente c'è la fase della spedizione quindi contatti con spedizioniere importatore insomma come sappiamo l'export è un mondo complesso è un mondo affascinante io ci lavoro e sono soddisfatto mi piace tantissimo il lavoro perché è un lavoro di ricerca costante cambio le normative e tutto e è un lavoro anche molto attuale ecco quindi oggi parleremo di export verso l'Australia questo è il paese di riferimento però prima di passare direttamente alla alla webinar di oggi presento un po' presento un po' l'azienda chi siamo che facciamo allora siamo una appunto delle principali realtà italiane nel campo da consulenza per la sicurezza alimentare ma ci occupiamo anche di sicurezza del lavoro e sicurezza ambientale siamo diciamo un team capace di coadiuvare quella che è l'attività del cliente a 360 gradi proprio perché siamo un team molto misto abbiamo tutti delle specializzazioni diverse appunto abbiamo chimici biologi biotecnologi io personalmente sono lavorato in scienze politiche di creazione internazionale quindi gente lavorata in economia insomma siamo un team vario e questo permette chiaramente alla società di avere e di fornire al cliente stesso una una consulenza a 360 e tutto i nostri servizi come ho detto già prima ci occupiamo di sicurezza alimentare ci occupiamo di sicurezza ambientale sul lavoro e poi in generale appunto anche di quelli che sono i modelli organizzativi e tutti i sistemi di gestione e abbiamo anche un laboratorio interno dove conduciamo quotidianamente le nostre analisi chimiche analisi microbiologiche per prodotti alimentari ma per campionamenti ambientali ok e tra l'altro ci occupiamo anche di formazione ci occupiamo di formazione sia a livello di business school quindi organizziamo proprio dei dei veri e propri corsi di formazione sia appunto facciamo dei corsi proprio otteniamo dei corsi qua ad esempio abbiamo quelli relativi all'etichettatura alimentare e sia anche a livello di master ecco otteniamo anche appunto un master in food safety e mi presento brevemente io io sono dottor Sergio Tagliata mi occupo come ho detto da un gruppo Morizzi di export ma soprattutto di etichettatura alimentare quindi etichettatura alimentare ed export entrambe le cose oggi sono qui per parlarvi dell'Australia dell'export dei prodotti alimentari si parla di questo rivolti verso l'Australia destinati al mercato australiano il programma è questo sono diciamo quattro micro punti che meriterebbero davvero ogni punto meriterebbe penso due o tre lezioni però insomma purtroppo non si può far tutto il tempo è poco quindi cercherò di essere breve più che altro cercherò di essere pragmatico ecco la cosa che mi preme oggi è questa e ripeto siate liberi di scrivere qualsiasi cosa vi passi per la testa nella chat di gruppo qualsiasi domanda quesito dubbio anche cose abbastanza tecniche insomma vedrò di esservi d'aiuto e di aiutarvi nelle vostre richieste allora questi sono i quattro punti i quattro punti di cui parlerò oggi il primo perché exportare l'Australia che sembra sembra un punto scontato generico invece non lo è affatto perché bisogna vedere innanzitutto cosa conviene esportare in Australia e cosa non conviene esportare in Australia come è il mercato quali sono i dati microeconomici e macroeconomici per questo e poi vabbè vedremo il BioSecurity Act che è diciamo una legislazione nazionale australiana di riferimento per quanto concerne il discorso della bia sicurezza quindi diciamo tutti i nostri alimenti che andranno poi in Australia ad essere esportati verso l'Australia dovranno rispondere a quei diciamo prerequisiti sulla bia sicurezza che troviamo in questo regolamento poi vabbè vi spiegherò brevemente la piattaforma appunto Bicon che fa sempre riferimento al BioSecurity Act nel 2015 è la piattaforma con la quale si possono vedere tutte le categorie merceologiche però dopo ci arriveremo e in fondo infine diciamo ecco quello che vi dicevo prima andiamo a vedere un po' la parte un po' più complessa dell'export tutta quella che è la documentazione quelli che sono i certificati necessari ai fini dell'attività di esportazione allora innanzitutto perché esportare in Australia spesso me lo chiedono appunto un'attività che facciamo è proprio anche quella di la consulenza al cliente spesso ci chiedono scusatemi ma per questa categoria di prodotti dov'è che mi conviene effettivamente esportare e beh innanzitutto però vediamo prima di passare proprio al settore alimentare vediamo in generale perché conviene esportare in Australia ok vediamo un po' qualche dato macroeconomico che serve sempre e abbiamo diciamo i dati del primo semestre 2020 ancora non sono scivoli del 2021 l'Italia è ben l'undicesimo paese al mondo per diciamo come fornitore paese fornitore per l'Australia ecco dopo i classici che sono Cina Stati Uniti Giappone Thailand Germania e via dicendo e tanti e quanti non sanno questa è una curiosità che ci tengo a darvi siamo anche al secondo posto tra i paesi dell'Unione Europea dopo la Germania ok quindi secondo paese appunto importatore in Australia questa è una cosa ok che molti non sanno pensano magari siano altri paesi davanti come Francia Spagna invece no dopo la Germania ci siamo noi quindi insomma il mercato è un è un bel mercato è un bel mercato è un 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 mercato molto significativo ecco però attenzione chiaramente la crisi come sappiamo al giorno d'oggi non si può parlare di crisi a livello nazionale anche la crisi la stessa crisi economica in generale quella anche che stiamo attraversando per via del Covid SARS-19 è una crisi globale qui dobbiamo spostare quelli che sono i confini nazionali e dobbiamo troppo constatare che le esportazioni sono diminuite ok sono diminuite e qua abbiamo dei dati per esempio ecco il riferimento degli scambi con l'Italia segnala che nel primo semestre 2020 sono diminuite sia le esportazioni verso l'Australia appunto meno 17,4% sia le importazioni quindi meno 28,6% contribuendo ad una complessiva riduzione dell'interscambio di circa al 20% che è molto è molto quindi è stata una c'è stata una crisi diciamo significativa ecco e poi vabbè con riferimento ai dati i c'è nel primo semestre i settori con maggior peso in termini di valore dell'export Italia in Australia vabbè diciamo ecco la meccanica diciamo le aziende farmaceutiche i mezzi di trasporto apparecchi elettrici così segnalano spettivamente appunto queste perdite quindi sono perdite considerevoli però vediamo adesso quello che è il settore alimentare giustamente quello che ci interessa ai fini di questo webinar e ai fini del nostro discorso perché io ripeto ci occupiamo di export di prodotti alimentari non di altro eccoci qua e abbiamo visto adesso anzi nella slide di prima abbiamo visto che ci sono stati dei settori colpiti fortemente dalla crisi però ci sono stati dei settori che invece non sono stati così colpiti dalla crisi e uno tra questi è proprio il settore agroalimentare e fatemelo dire non è soltanto in Australia perché basti pensare anche all'interno dell'Unione Europea o anche all'interno del nostro stesso paese in Italia anche è un settore che ha avuto sì delle perdite significative però rispetto insomma ad altri settori come per esempio evidentemente il settore del turismo il metalmeccanico e via dicendo insomma è un settore che ha tenuto testa alla crisi e un po' chiaramente come è scontato quello farmaceutico e infatti vediamo un po' questa slide che ci spiega la controtendenza del settore alimentare che copia il settimo e il nono posto con i prodotti da esportati e addirittura vedi ci parla di un incremento delle esportazioni verso l'Australia nel primo semestre ecco qua interessante ci fa un riferimento questi sono dei dati del lice e la frutta secca per esempio ecco le nocciole la frutta secca addirittura hanno avuto una crescita del 26,05% c'erano le farine del 23,84% e in generale appunto la crescita ammonta al 6% del quadro di mercato la crescita dei prodotti dell'export dei prodotti alimentari verso l'Australia vedete alla vostra destra questo grafico a torta molto ben fatto e questo l'ha fornito l'amministratore degli affari esteri sulla loro piattaforma mercati esteri che tra l'altro vi consiglio fortemente di visionare perché a parte che è molto ben fatta e poi trovate come dicevo dei dati macroeconomici molto importante anche qualora si voglia esportare insomma in un paese bisogna prima di tutto rendersi conto di che tipo di paese la forma di stato il governo e via dicendo ecco i problemi potrebbero esserci indogana e tutto come vedete questo appunto il grafico a torta vediamo i prodotti alimentari sono diciamo è la fetta rossa e come vedete insomma è una bella fetta un mercato davvero davvero importante in Australia ecco stavo dicendo prima l'ho già accennato l'impatto del covid-19 sul mercato alimentare in Australia beh chiaramente c'è stato c'è stato un impatto l'impatto è stato forte non tanto sul mercato alimentare ha colpito chi come in Italia come d'altronde l'intero globo ha colpito soprattutto i rivenditori al dettaglio perché perché questi dipendono in una parte da quelle che sono le vendite in store è stato più intenso rispetto a quelle che sono i venditori che operano attraverso molti canali di distribuzione e invece i meno colpiti che sono stati sono stati quelli chiaramente del canale e-commerce e questo appunto anche in Italia si è manifestato ecco quindi come vedete l'Australia è dall'altra parte del mondo ma le dinamiche economiche sono sono sempre quelle c'è poco da fare quindi ecco diciamo sì c'è stata una una crisi c'è stata una perdita netta di flussi di export di flussi di capitale però insomma il mercato alimentare il settore agroalimentare ha tenuto testa fortemente a tutto questo adesso arriviamo a noi in linee generali perché io azienda italiana dovrei esportare in Australia perché dovrei esportare soprattutto prodotti alimentari in Australia e beh diciamo dalle ricerche che facciamo ogni giorno emergono questi due queste due motivazioni che sono due motivazioni essenziali innanzitutto ma questo penso sia abbastanza risaputo la comunità italiana è fortissima in Australia soprattutto appunto nel novecento fine novecento c'è stata una immigrazione di massa di italiani in Australia e soprattutto nella costa no? nelle città città che poi definire città è riduttivo perché sono delle vere proprie metropoli no? come Sydney Melbourne Melbourne anche Canberra la capitale è piena di italiane quindi questo chiaramente fa sì che vi sia un forte interesse verso tutto ciò che è made in Italy verso quella che è la qualità dei nostri prodotti e la qualità dei nostri prodotti alimentari quindi insomma la comunità italiana ha un peso significativo in Australia copre una bella fetta di bacino d'utenza se vogliamo chiamarlo così motivo per cui ecco le aziende italiane dovrebbero magari iniziare a pensare perché no esportare proprio in questo paese e poi il secondo requisito anche questo è fondamentale il governo australiano non richiede particolari requisiti al fine di ottenere una licenza per importare prodotti ci sono come vedremo nelle slide successive dei prerequisiti per esempio dei prerequisiti di biosicurezza alimentare di sicurezza alimentare quindi tutta quella parte sulla biosecurity sulla food safety però in linea generale ecco diciamo così il governo australiano non è un governo che pone dei vincoli significativi ai prodotti alimentari ci sono paesi con i quali invece purtroppo si hanno molte difficoltà molte difficoltà ad esempio non mi viene in mente non so i paesi del golfo i paesi del golfo richiedono molte certificazioni certificazioni halal il medio oriente poi vabbè l'israele richiede chiaramente il co-share insomma ci sono problemi di questo tipo ma più che problemi sono complessità ecco diverse in australia invece no non ci sono non sono presenti queste complessità quindi è abbastanza facile esportare il governo non pone barriere significative ecco quali sono i primi passi da compiere perché ecco abbiamo affrontato un po' le questioni generali abbiamo visto vi ho spiegato il perché convenga al giorno d'oggi esportare proprio in questo paese però effettivamente molti di voi si stanno domandando dice sì ma io azienda italiana sempre no perché mi metto un po' nei vostri panni anche perché molti di voi saranno osa o lavorano nel settore alimentare no dice io azienda italiana cosa devo fare proprio in senso pratico no nel senso pragmatico bisogna essere pragmatici bene appunto chi decide di stare attività di esportazione verso l'Australia deve essere a conscienza di queste tre cose che è sostanziale innanzitutto della normativa in materia come vi ho detto infatti vi consiglio di visionare il Biosecurity Act del 2015 che è un po' la Bibbia ok prima di tutto bisogna partire dalla biosicurezza perché è il preeseguito il prerequisito principale ecco ai fini dell'esportazione di prodotti alimentari in Australia poi bisogna essere anche consci di quelli che sono nulla osta rilasciati dal Department of Immigration and Border Protection e poi infine di quelle che sono anche le tariffe doganali ok applicabili alle nostre merci perché perché come sappiamo dipendono dalla categoria merceologica poi vedremo in una slide ho messo anche quelle che sono le tariffe doganali applicabili ai prodotti alimentari in Australia in linea generale poi ripeto dipende dal prodotto e dal prodotto soprattutto per essere consapevole che non tutti i prodotti sono autorizzati ad entrare sul strato australiano e questa è una cosa a cui tengo particolarmente prima di tutto secondo me il mio consiglio pratico ripeto oggi voglio essere un webinar piuttosto pratico è questo io produco non lo so sono un'azienda italiana sono un'ossa non lo so produco latticini ok effettivamente posso esportare questi prodotti in Australia come faccio a capirlo ok andate sul sito del Department of Immigration appunto e Border Protection e c'è poi una lista fatta tra l'altro molto bene vi consiglio di visionarla in cui ci stanno tutti i Ban Food Products i prodotti alimentari bannati ecco diremo in italiano quindi i prodotti che assolutamente non si possono esportare in Australia e quindi prima di tutto bisogna affrontare questa questione perché è inutile iniziare a fare le pratiche è inutile iniziare a vedere anche i requisiti di biosicurezza quando il nostro prodotto alimentare comunque non è ammesso in Australia comunque non può entrare sul territorio australiano quindi ecco il primo consiglio che vi do fortemente è questo di andare a vedere questa lista dei prodotti bannati ecco vediamo un po' ve l'ho già accennato prima quelli che sono i due requisiti essenziali ok si parla sempre di prodotti alimentari quindi prima di tutto ci andiamo a vedere su quel sito se possono entrare o meno sul territorio australiano successivamente ecco anche lì io io osa che voglio esportare in Australia ok i miei prodotti alimentari che requisiti devono devono avere ok i miei prodotti allora il primo tipo dei requisiti sono quei requisiti chiamati di biosicurezza ok i biosecurity e tutti gli alimenti importati in Australia devono essere conformi alle leggi australiane sulla biosicurezza questo è molto semplice oddio semplice no è lungo è lungo però è tutto ben elencato e è facilmente reperibile è un po' complessa quella che è la visione del testo perché non c'è il testo in pdf quindi diciamo è tutto suddiviso in capitoli sotto capitoli sotto sezioni ci vuole molto molto tempo però comunque è tutto riportato nel biosecurity act 2015 questo regolamento che deve essere un po' la nostra bibbia quando vogliamo trattare l'argomento export Australia bisogna sempre averlo sul comodino ecco io dico così e poi ecco la piattaforma Bicom può essere utilizzata per determinare se un prodotto destinato all'importazione in Australia richiede o meno un permesso specifico richiede o meno una certificazione specifica e quali sono le condizioni di biosicurezza ecco poi vabbè affronteremo più tardi la questione della piattaforma Bicom no? o Bicom in italiano e visto che è un acronimo poi dopo vi dico anche cosa vuol dire e diciamo ecco la piattaforma l'affronteremo dopo comunque è uno strumento che ha messo in campo il governo australiano molto utile a mio parere molto molto utile che diciamo ci suddivide tutte le categorie merceologiche e si possono effettivamente andare a vedere quelle che sono le condizioni di biosicurezza ecco cioè sempre per per far la pratica ecco io sono molto indeciso sul mio prodotto alimentare ok ho visto innanzitutto che non è bannato dalla lista quindi effettivamente posso esportare questo prodotto alimentare mi sono andato a leggere il biosecurity act ok riga per riga e ho visto che bene o male il mio prodotto rispetta i requisiti di biosicurezza però come posso avere la prova finale la prova finale è andare su questa piattaforma appunto che trovate tranquillamente tra l'altro non richiede neanche un login non richiede nulla del governo australiano e insomma vi andate a vedere bene quelle che sono quelle che sono le certificazioni le certifiche di richieste e tutti i vari requisiti poi e quindi questo qua diciamo per chiudere la parte dei requisiti di biosicurezza però ci sono soltanto requisiti di biosicurezza da rispettare? no ci sono anche requisiti di sicurezza alimentare come dappertutto d'altronde quindi una volta diciamo che tutti i requisiti di biosicurezza sono stati affrontati gli alimenti devono anche essere conformi alle religioni australiane sugli alimenti importati incluso appunto l'Imported Food Control Act del 92 un po' un po' datata diciamo questa legislazione se vogliamo definirla così e i standard applicabili agli alimenti senza legge sono stabiliti appunto nel Australian New Zealand Food Standards Code vabbè questo è fondamentale testo di riferimento tra l'altro valido anche per la Nuova Zelanda il code quindi è un codice diciamo se vogliamo molto molto importante anche qui va valutata bene vanno valutati bene quelli che sono i requisiti di sicurezza alimentare anche lì è tutto diviso mi ricordo per categorie merceologiche quello anche se non si il Food Standard pure come il BioSecurity Act purtroppo non trovate la versione PDF o perlomeno se la trovate state sempre attenti che sia l'ultima aggiornata altrimenti io consiglio comunque di visionarlo sempre dal sito e anche quello è tutto suddiviso diciamo per capitoli sotto capitoli sotto sezioni e lì trovate tutti quei requisiti sulla sicurezza alimentare questa volta e poi c'è chiaramente una parte di etichettatura l'etichettatura è la parte questa diciamo è una cosa che vi dico perché mi capita quotidianamente di lavorarci è la parte dove si registrano più non conformità con la normativa di riferimento australiana perché spesso i clienti sono anche molto consapevoli di quelli che sono i requisiti di biosicurezza hanno studiato molto bene la normativa o lasciano che siamo noi chiaramente a farlo per loro è il nostro lavoro e quindi facciamo anche noi facciamo una valutazione di quella che è la normativa australiana di quelli che sono i requisiti di biosicurezza sicurezza alimentare e tutto però ecco spesso non si ha l'idea proprio dell'etichettatura no? una volta mi è capitato che un cliente mi avesse detto Sergio la mia etichetta è in inglese la mia etichetta è in inglese e io soprattutto commercializzo i miei prodotti nel Regno Unito va bene così com'è? cioè posso i prodotti posso esportarli in Australia? la risposta è assolutamente no perché vabbè all'interno dell'Unione Europea abbiamo come sapete insomma una normativa comune sull'etichettatura il Regolamento 1169 del 2011 e all'estero è diverso all'estero ogni paese ha diciamo la sua tipologia di etichetta e soprattutto la sua normativa in merito all'etichettatura per quanto riguarda gli Stati Uniti ad esempio abbiamo il CFR 21 significativo a riguardo per quanto riguarda i paesi del golf abbiamo GSO quindi insomma è tutta una normativa standardizzata per i paesi del golf e quindi in Australia chiaramente anche lì abbiamo una normativa specifica e bisogna stare anche molto attenti perché ci sono molti controlli sull'etichettatura e soprattutto vabbè le cose generiche quelle valgono poi tutto il mondo le dichiarazioni qualsiasi informazione riportata sopra l'etichetta deve essere un'informazione veritiera e non fraudolenta nei confronti del consumatore finale altra cosa anche questa sembra scontata ma non lo è perché spesso ricevo diciamo molte domande su questo clienti che mi dicono senti ma l'etichetta è in italiano posso esportarla così com'è in Australia la risposta ovviamente no perché l'etichetta deve essere sempre facilmente comprensibile nella lingua da consumatore medio della lingua di riferimento del paese di destinazione ecco ok arriviamo a noi arriviamo adesso al BioSecurity Act 2015 come vi ho detto un po' la Bibbia di chi vuole intraprendere seriamente questa o carriera o commercio questo tipo di commercio appunto verso l'Australia destinato all'Australia il BioSecurity Act del 2015 è chiamato anche The Act è entrato in vigore il 16 giugno del 2016 sostituendo appunto prima c'era il Carleton Act del 1908 addirittura quindi immaginate quanto fosse datata una legislazione del 1908 e vabbè il BioSecurity Act rappresenta appunto una modernizzazione completa della legislazione australiana sulla biosicurezza e sta sviluppato questa consultazione sì dell'industria e chiaramente sono stati anche fatti sedere al tavolo delle consultazioni tutti diciamo gli operatori sanitari i partner commerciali insomma gli operatori di settore ecco l'industria del settore alimentare in Australia e il BioSecurity Act appunto fornisce i poteri gli strumenti per gestire le moderne minacce alla biosicurezza quindi il tutto nasce da lì diciamo esiste al giorno di oggi parliamo di BioSecurity Act proprio perché il governo australiano ha voluto tutelarsi no? da questo punto di vista cioè il governo australiano ha voluto tutelarsi affinché non venissero introdotti all'interno del territorio australiano dei prodotti non rispettanti quei requisiti essenziali previsti dalla legislazione australiana ecco anche questo bisogna averlo ben chiaro perché spesso mi chiedono Sergio senti i prodotti li sto facendo spedire con una nave ok una nave che avete da attraversare mezzo mondo però dov'è che inizia effettivamente la giurisdizione australiana qui si vede la giurisdizione cosa vuol dire? la giurisdizione diciamo è l'area geografica entro la quale si possono esercitare i poteri entro la quale diciamo il governo di un paese può esercitare quelli che sono i poteri legittimi ok e la giurisdizione che è la biosecurity act è il territorio australiano però che si intende con questo perché è un po' vago dire ok si il prodotto appena mette piede in Australia diciamo è soggetto a quelle che sono le leggi a quella che è la giurisdizione australiana detta così insomma la cosa risulta essere un po' generica un po' vaga e non bisogna mai essere generici quando si parla di export perché bisogna essere più che altro anzi pignoli quasi e bene la diciamo giurisdizione territorio australiano è quel territorio che generalmente si trova a 12 miglia nautiche dalla linea costiera e attenzione però non include soltanto l'Australia include appunto anche l'isola di Natale l'isola Cocos Kering e altri territori esterni come per esempio l'isola di Norfolk ok questo perché è importante saperlo perché spesso capitano anche cose che nessuno vorrebbe che capitassero ad esempio che una nave venga fermata ok venga fermata dalla dogana australiana prima che questa sia effettivamente che abbia traccato al porto no di al porto presente sul territorio australiano e basta che appunto la nave sia entrata nelle famose 12 miglia ok dalla costa australiana per essere soggetta al controllo da parte della dogana scusate e prima delle 12 miglia cosa c'è? ci sono le acque internazionali ok di questo vi ho parlato prima oddio vi ho accennato prima della piattaforma Bicon o Bicon e diciamo ecco è una sigla è un acronimo come vedete riferita appunto a quelle che sono le Australian Biosecurity Import Conditions il Bicon ospita il database delle condizioni di importazione della biosecurezza del governo australiano per oltre 20.000 piante animali minerali e prodotti biologici e qua appunto vi ho scritto vi ho avuto a determinare quale le importazioni esistono e se è necessaria un'autorizzazione di importazione è anche possibile cercare la propria importazione per nome scientifico o codice tariffaria ecco questo per esempio è molto utile spesso mi capita di magari non conoscere più che altro i clienti capita magari che mi chiedano mi dicono Sergio senti io devo importare in Australia dei funghi non so però quale sia effettivamente il codice tariffario che per intenderci è il codice HS internazionale e nessun problema perché appunto la piattaforma è ben predisposta ci sono tre colonne proprio nella prima possiamo digitare il nome comune dell'alimento quindi non so voglio importare una storia funghi mushroom ok poi chiaramente ti chiede che tipo di funghi sono ti chiede se sono freschi se sono essiccati ti chiede mille cose ovviamente perché bisogna essere sicuri che sia effettivamente quella tipologia di prodotto e non una tipologia diversa e potrebbe cambiare tutto da ad esempio anche un processo di produzione un altro cambia proprio la categoria merceologica cambia anche il codice HS come sappiamo poi posso riportare il nome scientifico che per intenderci è il nome botanico appunto in latino ad esempio non lo so voglio importare del pepe in Australia non so il codice doganale ok piper negrum e e quindi insomma molto molto utile molto ben fatta vi consiglio assolutamente di consultarla anzi di averla sempre diciamo a portata di mano ecco allora queste diciamo sono delle curiosità però utili utili perché molti di voi sono osa e quindi giustamente vorranno in tutto dopo tutto questo discorso dopo tutto questo ragionamento si stanno chiedendo sì ma effettivamente a me che cosa conviene esportare in Australia e e qua vi ho messo diciamo le secondolita che è l'Italian Trade Agency appunto l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e questa fa riferimento a quella di Canberra tra i prodotti alimentari maggiormente importati a nostra nera troviamo le preparazioni alimentari e qua vi ho riportato anche per semplificarvi la vita il codice doganale l'HS.21 in questo caso gli alimenti preparati con cereali farina amido eccetera questo come abbiamo visto prima hanno subito un forte una forte crescita l'export di questa tipologia di prodotti ha subito una forte crescita nonostante la crisi nonostante il covid e tutto poi vabbè la frutta gli ortaggi lavorati e conservati e i prodotti datti ero caseari quindi e tra l'altro anche vabbè uova, miele e prodotti origini animali ecco diciamo hanno accorpato tutto in questa macro categoria allora qua passiamo alle cose un po' più complesse ok tanto complesse quanto però utili ai fini della della procedura della corretta procedura di export in Australia anche qua spesso anzi sempre mi chiedono dopo aver fatto tutte le pratiche dopo aver visto i requisiti di biosicurezza i requisiti di sicurezza alimentare mi chiedono Sergio ok adesso però io di che documenti ho bisogno ok per esportare in Australia e bene allora di questi documenti vi ho neccati qua e vabbè fattura commerciale questa come succede sempre lista di imballaggio quindi packing list la lettera di vettura aerea se la spedizione chiaramente avviene via aerea altrimenti la bill of lading si chiama la polizza di carico appunto se la spedizione avviene via mare quindi come vi ho fatto vedere prima no la famosa regola delle 12 miglia e tutto e poi vabbè di che sono i due canali di importazione fatta da un broker importatore in loco quindi loco vuol dire che che sia australiano o che ci sia appunto una sede in Australia fisica poi documento riguardante autorizzazione dello sdoganamento con il quale il cliente autorizza il broker appunto o chi per lui ad agire per suo conto per sdoganare la merce all'arrivo sarebbe in poche parole una sorta di delega ecco chiamiamola così delega concernente però l'autorizzazione allo sdoganamento della merce quindi una delega molto specifica attenzione e su questa già vi dico che fanno molti controlli quelli della dogana australiana poi l'Australian Business Number dell'importatore australiano quindi quel numero identificativo dell'importatore australiano che poi è un po' lo stesso concetto ora che ci penso del numero identificativo come sapete per l'importatore statunitense anche negli Stati Uniti d'America c'è bisogno necessariamente di un importatore americano che abbia un numero di autorizzazione e ci si può rivolgere soltanto ad un importatore americano che sia correttamente registrato altrimenti non è legale e anche su questo i controlli sono molto molto serrati poi abbiamo il Packing Decoration questa diciamo è molto specifica ecco serve per la spedizione via mare e semplicemente spiega come è venuto rimballare quindi su pallet sfuso vabbè queste insomma sono cose molto molto specifiche e poi ecco questo problema invece importante per quanto concerne prodotti alimentari quindi il nostro campo e bevande anche ricordiamoci che rientrano nella categoria anche le bevande ovviamente è richiesta anche la Manufacturing Decoration ok che deve contenere la lista degli ingredienti del prodotto il lotto di produzione del prodotto che indica la data di produzione ok il lot code e la descrizione del prodotto infatti ok Manufacturing Declaration sarebbe la dichiarazione della produzione ok di quel prodotto che è necessaria ai fini di entrare ai fini appunto dell'export nel territorio australiano ok scusate ok le procedure due canali vediamo brevemente perché sono cose molto complesse e molto lunghe anche vediamo diciamo brevemente quelle sono le procedure doganali ok per quanto riguarda l'importazione sempre verso l'Australia e diciamo divide il governo australiano in base diciamo sulle procedure doganali crea diciamo una dicotomia tra queste a seconda di che cosa a seconda del prezzo di acquisto ok di quel prodotto alimentare quindi per le merci che hanno un valore dichiarato un prezzo di acquisto inferiore ai 1000 dollari australiani che è la valuta dell'Australia le merci non sono soggettate ad alcun dazio canale ok o GST che come vedremo è la tassa locale sui beni servizi che sarebbe l'IVA e la procedura per il ritornamento varia a seconda del metodo di trasporto le merci se le merci arrivano via posta sono controllate dall'Australian Post e le merci arrivano tramite diciamo spedizionieri il processo invece è diverso perché perché pur non richiedendo il pagamento da alcun dazio tassa si deve comunque richiedere l'autorizzazione educana e sarà sottoposta al controllo di dipartimento agricoltura e tale autorizzazione denominata self-assess clearance la SAC questa è molto importante poi si è fatto dallo stesso spedizioniere ma infatti si fa dallo stesso spedizioniere diciamo a farla questo per quanto riguarda però ripeto il prezzo d'acquisto le merci che hanno un valore dichiarato a un prezzo d'acquisto inferiore ai 1000 dollari australiani ora vediamo un altro caso invece perché per le merci che invece hanno un valore dichiarato prezzo d'acquisto superiore ai 1000 dollari australiani l'elenco diciamo dei dati doganari che si possono applicare è riportato nella classification of your items e quindi anche questa vi consiglio assolutamente di visionarla perché trovate tutte le informazioni necessarie è scritta molto bene ben chiara il tasso è calcolato sul valore dichiarato la dogana e la merce e se le merce arrivano via carico ci sono tre opzioni per quanto concerne invece la procedura di sdoganamento di queste innanzitutto predisporre affinché la società che effetta spedizione di trasporto sdogani la merce e anche qua diciamo come prima come abbiamo visto nel caso precedente affidare quindi le operazioni di sdoganamento allo spedizioniere che ha curato il trasporto della merce poi è possibile anche qui prevedere che un broker doganare indipendente sdogani la merce a un costo questo ovviamente anche abbastanza elevato questo già ve lo dico e poi infine si può sdoganare direttamente la prima merce presentato direttamente la documentazione all'ufficio locale della dogana quindi queste sono un po' le procedure doganali la prima che abbiamo visto per quanto riguarda le merci che hanno un valore dichiarato un prezzo di acquisto inferiore ai 1000 dollari australiani invece le seconde per quelle che hanno un valore dichiarato un prezzo di acquisto superiore ai 1000 dollari australiani vediamo un po' brevemente anche questa insomma tutta la parte relativa ai dazi doganare gst che come ho detto sarebbe la partita iva e un po' quelle che sono le ispezioni ecco questo è interessante la liquida anche qua me lo chiedo sempre tanti non lo sanno tanti pensano sia molto più alta ma invece la liquida dei transito canali per la maggior parte di prodotti agroalimentari è del 5% o addirittura gratuita quindi anche qui come faccio a capirlo bisogna andare a visionare come ho detto prima il tariff classification of your items ok e vedere effettivamente il mio prodotto in quale categoria merceologica rientra e a seconda di quella poi insomma sarà diciamo soggetto a una tariffa del 5% gratuita appunto a seconda categoria merceologica poi vediamo un po' quella che è la partita IVA australiana mi piace chiamarla così il GST il General Sales Tax è la tassa dei prodotti ed è del 10% in Australia quindi come vedete è molto più bassa che l'IVA italiana la tassa è calcolata sulla somma valore di grande indogana delle merci più dazi spese di trasporto e di assicurazione dal paese d'origine vediamo invece adesso brevemente quelle che sono le ispezioni locali per qualsiasi prodotto alimentare potrebbe essere richiesta l'ispezione da parte dell'ufficio di quarantena australiana ed il costo varia a seconda l'isposizione richiesta cioè l'ispezione più è complessa diciamo più i funzionari i doganali si prendono tempo ecco per l'ispezione e più anche avrà un costo è chiaro e infatti a tale proposito sui prodotti alimentari è sempre consigliabile come vi dicevo prima predisporre una Manufacturing Declaration ok da parte dell'azienda prodotti dice e vabbè chiaramente la documentazione in via di lo deve essere in lingua inglese e ok questo per quanto riguarda diciamo il procedimento di ispezione doganale ecco adesso voglio rispondere un po' alle vostre domande perché non le ho viste vi ringrazio per l'attenzione vi dico inoltre che ci sarà un questionario di gradimento quindi mi invito a compilarlo il questionario di gradimento sul webinar tenuto oggi ma aspettate un attimo che torno in modalità ok qua tolgo interrutti condivisione eccoci mi sentite tutti? innanzitutto scrivetemi se tutto chiaro mi sentite mi vedete tutti tutto ok perfetto sono contento di questo sono contento che prima si vedeva un po' male invece l'importante è che abbiate visto non tanto me quanto la presentazione insomma che ho appena presentato allora allora ecco la bella domanda si viacera innanzitutto voglio vedere se prima ci sono state altre domande mentre spiegavo no non mi sembra si viacera allora buona domanda buonissima domanda tra l'altro è quello di cui mi occupo l'etichettatura dei prodotti alimentari e riguardo le etichette mi chiede quali sono gli errori in cui si ricade maggiormente l'errore in assoluto in cui si ricade maggiormente è quello di di considerare ogni aspetto della normativa europea e di applicarlo direttamente quindi ok così com'è cioè prendono la normativa europea la mettono su un'etichetta destinata a un prodotto verso l'Australia ti faccio un esempio scusate per la tosse mi è venuta un po' di tosse e ti faccio un esempio la normativa europea abbiamo il 1169 no? regolamento 1169 del 2011 che è un po' la bibbia di tutto quel discorso di etichettatura e quindi diciamo la gente fa affidamento a quella sia per quanto riguarda anche la stessa costruzione della tabella nutrizionale per quanto riguarda anche gli allergeni questo è un mega errore che si fa la gente pensa che gli allergeni siano uguali in tutti i paesi invece no assolutamente ad esempio gli Stati Uniti hanno molti più allergeni rispetto a quelli italiani per farvi un esempio rispetto a quelli scusate europei per vista la normativa europea di riferimento 1169 ad esempio un altro errore è quello di considerare anche come additivi la lista degli additivi europea che sappiamo essere quella prevista dal 1333 2008 dall'regolamento 1333 e quindi anche lì spesso vedo sulle etichette additivi funzione tecnologica tutto diciamo tutto è predisposto e diciamo assestato come se quel prodotto diciamo dovesse essere poi alla fine commercializzato in Europa quindi questo secondo me è l'errore enorme che non bisogna fare che non bisogna fare per questo vi chiedo di o di studiare tantissimo proprio ma studiare 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 mettersi sulla legislazione australiana su biosecurity 2015 o altrimenti di affidarli a noi ecco ci siamo opposta per evitare questi errori questi errori che ricordo sono sanzionabili non sono errori da poco perché anche questo spesso mi chiedo mi dicono ma se io sbaglio a etichettare che mi succede può essere sanzionabile addirittura spesso in alcuni casi è previsto il ritiro stesso della merce della dogana quindi attenzione perché sono errori che sembrano piccoli errori sembrano minuzie ma sono errori enormi enormi che possono avere delle grandissime percussioni anche dal punto di vista economico ecco io come al solito parlo tantissimo ci sono altre domande penso di averti disposto Silvia dimmi se hai altre curiosità altre considerazioni allora per le etichette va considerata buona domanda anche questa Silvia c'era sempre mi chiede per le etichette quale atto regolamento australiano va considerato va considerato un regolamento che si chiama New Zealand Australian Code ok è quello che vi ho messo mi sa che abbiamo parlato prima penso di avermi parlato di questo regolamento perché sappiamo che appunto il prima di entrare in territorio australiano devo rispondere a quei due famosi requisiti biosicurezza e l'altro requisito se vi ricordate era la food safety la sicurezza alimentare sicurezza alimentare dove la trovate? la trovate appunto nella New Zealand Australian Code e vi consiglio di visionarlo attentamente e ripeto non è di facile visualizzazione perché è un po' strano il sito va tutto per punti sottopunti sottoparagrafi è un po' come se leggessimo CFR21 per quanto concerne la legislazione statunitense di riferimento Simone Zoccoletto chiede quali sono le principali differenze rispetto al 1169 europeo tutto è completamente diverso è completamente diversa la struttura è completamente diversa sono anche considerate diversamente spesso quelle che sono le categorie merceologiche anche la denominazione legale del prodotto sono diversi requisiti grafici anche lì previsti al 1169 sono completamente un'altra cosa quindi ecco il consiglio che vi posso dare davvero se siete interessati e questo mi fa piacere perché è il mio lavoro mi occupo di etichettatura e di export come ho detto e chiaramente lavoro tantissimo con il mercato europeo ma non solo però principalmente sì mi sono sempre occupato di mercato europeo e il consiglio che vi posso dare spassionato è proprio di fare una certa diciamo di cancellare tutto quello che si è in testa per quanto concerne la normativa europea quindi 1169 e diciamo riformattare riassestare il tutto e dedicarsi completamente allo studio della normativa e australiana si viacera mi dice il regolamento si chiama Australian New Zealand Food Standards Code giusto? sì giusto giustissimo giustissimo aspettate avete un attimo lo vediamo insieme se volete aspettate la cosa buona è che si può condividere lo schermo quindi allora guarda ve lo condivido subito così lo vediamo insieme che facciamo prima avete modo un attimo di visionarlo brevemente allora eccoci qui vedete giusto? sì allora eccolo qua Australian New Zealand Food Standards Code come vedete infatti è già stato selezionato visto che come dicevo è il mio lavoro quindi faccio questo dalla mattina alla sera eccolo qui questo è il regolamento come vi dicevo Food Standards Code e come vi dicevo non mentivo come vedete avete la prova è molto molto complesso ok? perché? è tutto diviso cosa che vi dicevo in capitoli sotto capitoli vedete? part 1.5 eccolo qua for required pre-market keywins plant food vabbè tutta la contaminazione biologica microbiologica eccolo qua guardate qua questa parte requirements to have labels questa è tutta la parte che fa riferimento al discorso dell'etichettatura ho gli has selected links to the extreme website vabbè qua mettiamo ok giusto brevemente adesso vedete entriamo ok non so perché ci sta mettendo una vita eccolo qua dovete sempre controllare che sia in force che vuol dire in vigore quindi assolutamente vediamo sempre normative di vigore e poi qui abbiamo vabbè tutti addirittura quasi è vero perché c'è tutto discorso degli emendamenti vabbè insomma è parecchio parecchio complesso però è molto interessante ecco latest andate sempre su latest che è l'ultima versione e guardate qua ci vedete tanto ecco qua requirements to have labels or otherwise to provide information e qua vi vedete tutta 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 la legislazione australiana in merito ecco vedete application saving transition and provision amendment history addirittura dice tutti gli emendamenti tutti gli standards eccetera insomma ok interrompi condivisione perfetto ecco è bene anche affrontare queste cose insieme perché a parole spesso non si capisce no non invece se si ha infatti il consiglio di due è sempre questo di avere bene davanti la legislazione e poi basarsi su quella perché è molto utile come strumento e bisogna insomma imparare un attimo a starci dietro anche a a smanettare ecco passatemi in termine sulla sulle diverse legislazioni nazionali in termini di etichettatura in termini di export e tutto avete per caso altre domande io sono qui per voi quindi qualsiasi cosa sono stradisponibile e sono felice di aiutarvi insomma ok si viacera grazie per la risposta comunque prego prego no vedo più che altro che molti di voi sono molto interessati al discorso dell'etichettatura quindi primo mi fa piacere vi vedo perché è quello di cui mi occupo secondo secondo interessante interessante perché perché il discorso dell'etichettatura è un discorso molto tecnico e quindi ecco si vede che attila attenzione no di molti perché perché è complesso chiaramente le cose complesse attivano spesso l'attenzione perché bisogna cioè si vuole si ha curiosità ecco l'importante è essere curiosi anche nel campo dell'etichettatura essere curiosi e cercare di capire quali sono gli sviluppi allora si viacera brava si viacera ti dico brava perché proponete accettiamo le vostre proposte e riflettiamo ecco sarebbe interessante un webinar al riguardo cioè si viacera e anche se molto corretto sarebbe interessato a un webinar esclusivo sull'etichettatura per l'Australia e vi dico che ne parlo subito appena finito questo webinar con con ufficio marketing con la responsabile del marketing Ilaria del vecchio dottoressa del vecchio e appunto si è un discorso che potremo affrontare perché no e insomma vi teniamo aggiornato aggiornati sulla sulla cosa tra l'altro vi consiglio se non lo fate di seguirci sulle nostre pagine social siamo ovunque tanto quindi ci trovate davvero ovunque su facebook su linkedin su instagram e ah ecco lei è la dottoressa del vecchio di cui vi parlavo che è la nostra responsabile di marketing quindi è lei che davvero organizza poi materialmente i webinar che insieme a noi che siamo appunto i specialist ecco nel mio caso specialist in sequenza alimentare riflette vede come impostare il webinar su che cosa impostarlo e quindi va bene per seguire altri webinar potete seguire ok sui social esatto siamo tanto ovunque ci trovate davvero su tutto su tutti i social più importanti più famosi insomma chiamiamoli così e poi vi consiglio anche di compilare il modulo il di gradimento il questionario di gradimento ecco che vi forniremo quello ci è utile è uno strumento molto utile perché ci fa capire dove si potrebbe migliorare di che cosa magari si potrebbe affrontare si potrebbe parlare la prossima volta infatti per quello che vi chiedo proponete assolutamente noi siamo qui per voi siamo disponibili è un'attività che ci appassiona molto quella dei webinar perché si è uno scambio costante tra appunto chi tiene webinar e i vari utenti quindi assolutamente sentitevi liberi di chiedere qualsiasi cosa Simone ci chiede altri mercati come l'arabo o il mercato statunitense allora sì ti fermo però su una cosa Simone statunitense è correttissimo mercato arabo che intendi ti posso chiedere più in uno specifico che intendi intendi i paesi del golfo arabo e anche lì cosa intendi perché arabo è un po' generica come cosa ah perfetto Emirati Arabi Uniti che tra l'altro ci lavoriamo anche molto ci ho lavorato proprio oggi tra l'altro ho fatto un'etichetta per Dubai quindi sì ci lavoriamo molto sui Emirati Arabi e tra l'altro la normativa è cambiata da pochissimo sono usciti i nuovi requisiti proprio per quanto concerne l'etichettatura è un'etichettatura molto particolare che tra l'altro riprende molto quella statunitense per il discorso della tabella nutrizionale l'etichettatura degli Emirati Arabi Uniti è un'etichettatura che ha tantissime differenze con il 1169 ad esempio se ne cito qualcuna è obbligatorio riportare la data di produzione di quel determinato prodotto alimentare cosa che come sappiamo per quanto concerne la normativa europea non abbiamo non abbiamo questo obbligo quindi adesso perfetto ne parlo sempre con l'ufficio marketing Emirati Arabi Uniti potrebbe essere un webinar davvero interessante perfetto va bene io se non ci sono altre domande altri altre riflessioni altri spunti altre proposte per webinar futuri vi saluterei aspettiamo magari un minutino vediamo un attimo se se scrivete altro se avete altro da dire intanto qui c'è la chat comoda che vedete alla vostra destra possiamo diciamo interfacciarci così ecco ok Emirati Arabi io non vedo altri messaggi no non vedo altri messaggi quindi immagino non abbiate più domande proposte eccetera niente come vi dicevo vi invito a compilare quest'idea di gradimento che vi arriverà vi invito a seguirci su tutti i canali social e niente io comunque sono a vostra disposizione la mia mail ve l'ho fatta vedere prima s.tagliata chiocciagruppomalizi.it niente vi saluto vi auguro una buona serata e niente ai prossimi webinar ciao a tutti grazie grazie a tutti una buona serata grazie a tutti